Ciao a tutti, oggi video consigli perché so che in alcune upim, uvs, forse coin, insomma non mi ricordo bene sono arrivati finalmente i prodotti della Physician Formula io ne ho alcuni perché un paio di anni fa, no tre anni fa, la prima volta che sono andata al Cosmoprof ne ho acquistati perché c'era lo stand che vendeva e quindi sono stata fortunatissima a trovarlo e ne ho acquistati parecchi ora ve ne mostro alcuni, un po' perché un paio ne ho finiti e un po' perché un paio di palette, una l'ho lasciata mia mamma quindi l'ha terminata lei insomma vi mostro diciamo il campionario e così vi parlo anche della mia esperienza eccetera eccetera io sono stata il doppio fortunata perché oltre ad averli trovati li ho pagati proprio pochissimo, 5 euro il pezzo e ho visto che adesso i prezzi sono un po' altini ma alcuni prodotti valgono veramente la pena di essere acquistati e provati e quindi adesso vi faccio vedere un po' tutto parto dal prodotto forse più carino e interessante che è l'Happy Booster Blush io ho questo qui che si chiama Warm eccolo qua e praticamente sono i blush, i prodotti della felicità perché hanno insomma quell'ingrediente che stimola la felicità secondo me insomma è anche solo una questione di testa nel senso che quando te lo metti sai che si chiama Happy Booster quindi sei contenta per quello però vabbè sono molto molto carini come vedete questo qui ha il pulsantino sotto che apre il coperchio ecco vedete che sotto qui ha anche il pennellino che io non ho mai usato però è abbastanza soffice di due colori e questa è la cialda tutta fatta a cuore come vedete è su rosa con un cuoricino un po' arancione profuma di violetta buonissimo, molto molto carino sulle guance vi faccio uno swatch, ora non so se si vede con questa luce però molto molto carino questo qui non è male, dovrebbe esserci ancora e se lo trovate non so costerà sicuramente 20 euro e passa visto il packaging e tutto però insomma è bellino sempre della stessa linea ho acquistato anche due rossetti questo qui è quello che indosso adesso si chiama I Love Rose e anche questo ha il cuoricino al centro e poi ho anche l'I Love Nude che è un pochino più aranciato ve li mostro sulla mano senza sempre come parlo ve li mostro sulla mano sempre che insomma la luce permetta di vedere qualcosa cercherò di aggiustare un po' poi nel montaggio e sono questi qua sono molto luminosi, molto scorrevoli leggermente shimmer anche questi hanno un buonissimo profumo poi ho provato le palettine si chiamano shimmer strips io adesso vi mostro questa qui che è la Nude guardate che bella la confezione tutta in pizzo sono così all'interno avevano anche il pennellino quello là di spugna e sono praticamente tre combinazioni colore come vedete ci sono le due cialdine più grandi che servono da ombretto e poi c'è quella più piccola e più scura che andrebbe applicata come eyeliner però si può applicare anche come ombretto consiglio di applicarle bagnate soprattutto quella da eyeliner ma anche le altre poi ovviamente si può fare il mix insomma quindi non usare per forza 3-3-3 ma magari uno per ogni trio ma sono molto molto belli anche questi molto shimmer molto luminosi e anche abbastanza resistenti è da un po' che non li uso però non sono male il packaging è favoloso ha la calamita quindi resta chiuso non c'è lo specchio come vedete però sono anche comode da trasportare perché non è molto grande se vi interessa magari vi faccio un tutorial con questa così vedete com'è l'applicazione come risultano sugli occhi se per caso vi interessa acquistarli poi ho un paio di eyeliner allora questo qui si chiama Eye Booster e è un 2 in 1 contiene un siero per le ciglia se non sbaglio sì che aiuta un po' a rinforzarle a farle crescere un po' più diciamo voluminose ecco per questa cosa qui bisognerebbe usarlo tutti i giorni io non lo uso tutti i giorni però è uno dei miei eyeliner a pennarello preferiti perché è molto facile da usare è grande però ha un'impugnatura veramente molto stabile sicura insomma si riesce ad usare bene e vedete questo è il colore qui c'è anche scritto che se il tratto risulta chiaro basta mettere il prodotto a testa in giù e quindi poi tutto il il liquido colorato va verso la punta e risulta più nero mi piace molto anche come resistenza e tutto quanto mi piace il segno permette di fare il segno grosso ma anche un pochino più fino perché vedete che comunque è bello appuntito e questo qui lo uso abbastanza perché davvero mi piace mi trovo molto molto bene poi ho invece questo qui che si chiama eye definer questo è marrone dark brown si chiama ed è fatto così vedete ha la punta bella lunga è un marrone scuro questo scrive scrive bene eccolo qui anche questo un bel tratto molto appuntito devo dire che questo l'ho usato meno rispetto al nero però non è male il prodotto che in assoluto vi consiglio costa più di 15 euro ma veramente li vali tutti quanti sono questi eyeliner qua che si chiamano sempre shimmer strips strips e ci sono in tre varianti io ce le ho tutte e tre però vi mostro questa perché è completa le altre due la parte sotto che è quella nera c'è la mia sorella che lo usa tutti i sacrosanti giorni sono a prova di bomba questi eyeliner qua sapete che mia sorella fa nuoto sincronizzato lei va in acqua con l'eyeliner esce con l'eyeliner sono scorrevolissimi veramente molto molto cremosi molto facili da applicare e questi qui si chiamano green eyes perché sarebbero adatti agli occhi verdi poi ci sono quelli con la parte viola che sono adatti agli occhi marroni scuri e quelli con la parte blu che sono adatti agli occhi chiari allora hanno tre colori diversi questo qui ha il verde come vedete verde scuro e poi ha questo viola qui molto particolare che ora sembrerà nero ovviamente e poi l'ultimo molto carino perché è un nero ma non un classico nero perché ha dei mini glitterini in questo caso verde quello viola ha dei mini glitterini viola e quello blu ha dei mini glitterini blu e se non ricordo male quelli viola hanno la parte sopra marrone e un altro viola in mezzo quelli blu hanno il marrone e un blu però non mi ricordo molto molto bene in caso vi metto le foto qui da qualche parte favolosi veramente questi qui sono incredibili durano tutto il giorno permettono di creare un tratto favoloso veramente se li trovate questi qua provateli in qualsiasi colore perché ne vale la pena poi avevo provato anche il mascara quello a forma di foglia aveva lo scovolino in silicone con le setole molto molto piccole però se non sbaglio non mi dispiaceva vi metto anche di quello la foto qui qui da qualche parte credo di aver fatto anche la recensione sul blog magari ve la cerco vi metto il link qui sotto e per ultime avevo provato anche le salviette sempre della linea organic anche quelle mi piacevano tanto poi avevano un bel tubo in latta molto molto carino ecco questi qua sono tutti i prodotti che ho io che insomma se vi interessa proprio ve li faccio vedere anche in un tutorial all'opera così vi rendete conto di come sono faccio veloce perché non c'è una bella luce quindi i colori non rendono molto però volevo assolutamente farvi il video e niente vi saluto e alla prossima ciao